no non ti lasciamo solo non siamo quelli che puntano alla vendita e poi si dimenticano di te noi ti seguiamo anche dopo l'acquisto dell'auto e per ogni necessità ti basterà scriverci e allora ho portato qui con me chi si occupa di tutti i servizi di post vendita la nostra monica ciao monica ciao ciao a tutti prima di tutto volevo ricordarvi che vi manderemo un messaggio in occasione di tagliando e revisione ma specialmente se riceverai dei richiami dalla casa madre se avrai dei problemi di tipo meccanico oppure se sarai alla ricerca di pezzi di ricambio ma aspetta è vero che ti offriamo una soluzione di mobilità verissimo per scostarti quando la tua auto è riparazione da noi non ti lasciamo mica piedi hai ancora dubbi spero su che auto scegliere non sicuramente su che dealer affidarti exoratics ciao a tutti ciao a tutti Grazie.